opel mocca electric energia a prima vista opel mocca da 149 euro al mese tan 2 99 taeg 4 e 19 fratelli bonaventi concessionaria opel ospite della nostra vetrina marco bonaventi buonasera a tutti ciao rosy bentornata siamo qui a rovato la concessionaria opel fratelli bonaventi noi come ricordo tutte le volte siamo concessionari opel dal 1970 abbiamo sede a manerbio che è la nostra sede storica e anche a orzi nuovi da tanti anni anche orzi nuovi in tutte le nostre sedi potete trovare salone vendita auto aziendali e chilometri zero usato selezionato e garantito e officina specializzata con i migliori tecnici in circolazione per quanto riguarda il marchio opel e oggi andremo a vedere delle promozioni davvero straordinarie soprattutto per quanto riguarda i tassi è vero è vero abbiamo una promozione che è una novità di casa opel su corsa e mocca tasso del 2 99 ma la cosa più importante rosy abbiamo della pronta consegna abbiamo corsa e mocca in pronta consegna nelle motorizzazioni benzina diesel gpl ma anche la novità l'elettrico bene non dimentichiamolo perché ci sono anche incentivi statali incentivi regionali sfruttiamoli finché è possibile perfetto diamo la parola quindi a marco passiamo tutto a marco che ci spiegherà la gamma opel ciao a tutti anche da parte mia sono contento oggi di ritrovarci qua in salone a rovato perché abbiamo per fortuna una giacenza di vetture che ricomincia ad essere importante e in questa occasione vi presento i nuovi modelli con i nostri ultimi aggiornamenti sono qua a fianco dell'opel mocca che è una macchina che sta facendo un notevole successo e questa in particolare l'allestimento edition che è il nostro primo allestimento disponibile che è già un allestimento che permette di avere già un ottimo contributo da parte di opel sia in termini di scontistica sia in termini di accessori e rifiniture in questo mese in particolare vi voglio anche ricordare che oltre agli sconti importanti perché parliamo di più di 5 mila euro di sconto sul listino o per sta puntando su un finanziamento molto molto aggressivo perché parliamo di un 2 e 99 di tasso cosa che ad oggi sul mercato assolutamente non non si riesce a trovare perché purtroppo i tassi nei finanziamenti nei mutui sapete benissimo che sono aumentati e quindi in questo modo per far capire che si punta su un finanziamento importante completo anche di assicurazioni e di conseguenza per noi in questo mese è una campagna veramente molto molto aggressiva e qua a fianco l'allestimento invece elegans che è il secondo allestimento di di mokka permette di avere un cerchio in lega invece che 16 pollici passiamo già a un 17 pollici con una finitura superiore un clima automatico un interno pelle tessuto la radio ormai già col collegamento per capolino e d'auto e anche i sensori di parcheggio posteriori con retrocamera nel particolare di quella che vi faccio vedere adesso c'è anche un pacchetto aggiuntivo con i sensori di parcheggio anteriori specchietti ripiegabili quindi parliamo già di un ottimo riferimento questo è un allestimento che punta molto sull'eleganza quello che vi faccio vedere qua a fianco invece è l'allestimento gs che è il nostro allestimento disponibile più sportivo e lo si nota subito da queste finiture nere sui fari e la finitura rossa sia esterna che interna alla vettura quindi un impatto decisamente diverso con il doppio colore e il bianco di carrozzeria e il tetto nero già di serie vi ricordo che per tutte le motorizzazioni ad oggi abbiamo disponibile il cambio manuale benzina 100 cavalli o 136 abbiamo il cambio automatico 130 cavalli 8 rapporti bellissimo oltre alla soluzione totalmente elettrica e per il momento anche per fortuna visto che il mercato lo richiede ancora anche la motorizzazione turbodiesel 1.5 110 cavalli abbinabili a tutti e tre gli allestimenti per quanto riguarda la soluzione elettrica visto che le richieste sono sempre importanti abbiamo una possibilità di avere più di 50 kilowatt di potenza di batteria e quindi 400 chilometri effettivi di utilizzo vettura qui invece vi presento la opel corsa nostro best seller opel corsa in questo momento c'è con una buonissima quantità di disponibilità sia sul nuovo aziendale chilometri zero quindi abbiamo diverse soluzioni sia benzina sia diesel sia elettriche benzina abbiamo il 1275 cavalli che è anche neopatentabile quindi molto molto importante al quale eventualmente si può anche abbinare la soluzione gpl cosa importante visto che la richiesta ad oggi di gpl è comunque una richiesta che si vedo effettivamente che i clienti la richiedono ancora molto molto spesso c'è un 1.5 turbodiesel 100 cavalli o c'è la versione totalmente elettrica come abbiamo visto anche sulla sull'opel mocca parliamo di una vettura che appunto fa tranquillamente più di 400 chilometri di autonomia in elettrico quindi è una vettura che sul mercato è tra le tra le migliori in termini di resa chilometrica quello che vediamo qua è l'allestimento edition qua alla mia destra e l'allestimento standard sulla mia sinistra logicamente cambiano in termini di accessori con le campagne che ci sono questo mese come su opel mocca anche opel corsa punta molto su un finanziamento molto aggressivo al 2 99 di tasso quindi parliamo di tassi veramente molto molto interessanti che sono abbinabili a tutti gli allestimenti motorizzazioni e soluzioni l'allestimento standard per darvi un riferimento ad oggi con la campagna piena di opel già con 15 mila euro prendete una vettura nuova quindi visto i prezzi assolutamente fuori fuori mercato delle vetture usate ad oggi con 15 mila euro prendete una vettura nuova completa sicura e accessoriata con un 1.275 cavalli oltre a queste due esiste anche l'allestimento gso elegance che sono le due alternative e che abbiamo comunque già disponibili in pronta consegna sono molto contento di presentarvi anche la nostra nuova opel astra un modello che stavamo aspettando da parecchio tempo è una vettura completamente nuova che sta già riscuotendo un grandissimo successo abbiamo le prime unità disponibili quindi per noi è un veramente un ottimo un ottimo risultato quelle che ho qua a fianco sono i due allestimenti elegance alla mia sinistra e gs alla mia destra che rispecchiano molto logicamente tutte le finiture e gli accoppiamenti che ci sono sui vari modelli quello che ho qua sulla mia destra è addirittura anche un nostro chilometri zero che abbiamo appena immatricolato e abbiamo oltre a questo rosso con il tetto nero abbiamo anche un argento col tetto nero sempre chilometri zero e parliamo di un 1.5 turbodiesel 130 cavalli cambio automatico sulla mia sinistra invece abbiamo la soluzione a benzina è un 1.2 turbo benzina 110 cavalli allestimento elegance cambio manuale oltre a questo abbiamo anche altre vetture che sono arrivate quindi ci sono soluzioni come ripeto sia nuove che aziendali che chilometri zero in pronta consegna qui al mio fianco c'è opel crossland o per cosa ormai è qualche anno che abbiamo questo modello a disposizione che sta piacendo molto alle famiglie proprio perché c'è un ottimo rapporto qualità prezzo e spazio disponibile parliamo di una macchina che raggiunge quasi 500 litri di bagagliaio e a cinque posti comodi quella che io ho qua a fianco è il 1.2 turbo 110 cavalli 6 marce che è una motorizzazione oggi di riferimento in assoluto su opel crossland oltre alla soluzione turbodiesel qui c'è l'allestimento elegance che è quello più completo quindi abbiamo già dei cerchi comunque in lega con un disegno specifico dell'ultimo aggiornamento abbiamo già tutto il frontale che riprende molto quello che è stato il best seller oggi di opel mocca viene ripreso anche su opel crossland e internamente con questo allestimento abbiamo già climatizzatore automatica al volante in pelle tutti i sistemi di sicurezza di ultima generazione quindi per la famiglia è sicuramente la macchina ideale è una macchina che logicamente con tutte le campagne sconti che ci sono ad oggi è già disponibile sicuramente sotto i 20 mila euro quindi ci avviciniamo ai prezzi di un'opel corsa accessoriata quindi qua abbiamo molto più spazio e molto più versatilità oltre a questo abbiamo anche delle soluzioni sia di chilometri zero che di aziendali sempre di opel crossland sia benzina che turbodiesel al mio fianco abbiamo opel grandland oggi è il nostro top di gamma è un SUV che sta facendo un ottimo successo proprio perché parliamo di una macchina da quattro metri e mezzo quindi la famiglia qua sta assolutamente comoda quindi sono cinque posti comodissimi un ottimo bagagliaio e negli ultimi mesi abbiamo fatto anche un restyling estetico sia per quanto riguarda tutto il frontale che chiaramente riprende tutti gli stilemi di opel con l'opel visor che abbiamo ripreso su tutte le ultime versioni sia di opel astra e anche di opel mocca e anche per quanto riguarda l'interno quello che vediamo qua è nello specifico l'allestimento gse è un 300 cavalli ibrido plug-in che esiste anche nella versione 225 cavalli però oltre a questi ci sono anche le motorizzazioni benzina manuali o automatiche o anche la motorizzazione turbodiesel 1500 turbodiesel 130 cavalli cambio automatico 8 rapporti anche qua ci sono diverse versioni e diversi allestimenti è una macchina che permette comunque con tutte le campagne sconti che ci sono ad oggi di avere una vettura al di sotto dei 30 mila euro comunque ad oggi il nostro nostro riferimento top di gamma quindi è chiaramente una macchina molto molto importante per noi e sta dando ottimi risultati anche sul mercato eccoci qua rosi visto che belle promozioni passo del 2 99 mocca e corsa in pronta consegna vi ricordo che siamo concessionari opel nelle sedi di manervio orzi nuovi e ora anche a rovato venite a trovarci perché oltre al nuovo con la gamma completa di opel con le motorizzazioni benzina diesel gpl ed elettrico abbiamo una vasta gamma di vetture nuove vasta disponibilità anche di chilometri zero ma soprattutto il nostro usato abbiamo una buona disponibilità di usato sia nel piccolo nel grande e anche veicoli commerciali non dimenticatevi i veicoli commerciali che è un nostro master perfetto grazie marco dobbiamo proprio salutare vi aspettiamo tutti qui ciao a tutti opel mocca electric energia a prima vista opel mocca da 149 euro al mese tan 2 99 taeg 4 e 19 e andiamo